Cestini dei rifiuti rovesciati per terra e danneggiati con sportelli diverti. E' questa l'immagine che offre Agrigento coloro i quali si apprestano a fare una passeggiata per le vie della città. Una situazione che simboleggia l'inciviltà diffusa e che purtroppo coinvolge non solo i quartieri meno conosciuti, ma anche le vie principali, come il Viale della Vittoria e la Via Atenea. Come se non bastasse, molti hanno posto in essere tali atti incuranti della presenza delle telecamere di sicurezza piazzate in alcuni luoghi strategici della città, come ad esempio il Viale della Vittoria. Un'immagine che di certo riceve la disapprovazione da parte della cittadinanza. Penso che è un atto di maleducazione, perché la comunità deve rispettare la raccolta dei rifiuti. E' un male, è un male veramente. E purtroppo che c'è da fare? C'è maleducazione in giro. Non so cosa dirle, è certo che non va bene. Non va bene quello che fanno i ragazzi di oggi. Perché dovrebbe avere più rispetto per l'ambiente e per tutto. Non dovrebbero devastare così i rifiuti per strada. Sono atti di vandalismo che devono essere combattuti con una presenza della polizia locale più assidua nel territorio. In questo penso. E dal centro città, alla zona balneare, la situazione non cambia. Come potete vedere, anche qui i cestini sono danneggiati. In merito alla possibilità di ripristinare dei nuovi cestini per la raccolta rifiuti, abbiamo contattato la TOGESA, che fa sapere che la ricollocazione dei contenitori e di competenza delle ditte di servizio e seda è SAP. Già sono in corso le attività di accertamento della quantità di cestini danneggiati per provvedere alla loro ricollocazione, ma dalla GESA fanno comunque sapere che l'iter burocratico è abbastanza lungo e come se non bastasse la spesa di acquisto si ripercuoterà sulle tasche dei contribuenti. Ed allora ciò che si auspica per il futuro è di certo un maggiore buonsenso e un po' di rispetto per l'ambiente.